buonasera ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video ma ragazzi oggi il video così una bevanda un po' l'ho comprata giusto per cambiare gusto allora ragazzi oggi volevo video in questo video qui non mangerò non farò challenge ma parlerò un po' perchè sono scomparso allora ragazzi intanto io vi voglio dire che veramente grazie perchè è la prima volta che apro un canale youtube ma soprattutto dal punto di aspettativa sui social sono cresciuto veramente molto e questo è grazie a voi quindi ovviamente grazie di cuore quindi è tutto allora ragazzi io vorrei dirvi intanto oggi parlerò un pochino delle cose sul mio futuro un pochino perchè non sto più riprendendo a fare i video riprenderò a fare i video non vi preoccupate ve lo dico da adesso però ve lo ridico magari se non avete capito allora ragazzi intanto per prima cosa non riprendo più a fare i video veramente sono molto impegnato voi direte sono impegnato sia dal punto di aspettativa telefoni varie cose elettroniche tutto sia dal varie cose scuola scuola ok però voi direte elettronica in che cosa guardare youtube video a caso no ragazzi non è quello ma veramente io veramente dedico dei giochi che mi appassionano tanto ho dei compiti da fare su internet quindi veramente molto importante per me allora ragazzi intanto vorrei dirvi che io avevo pensato un progetto su instagram ad esempio avete pensato tipo sapete tipo il miele non scade mai curiosità ecco tipo gatto più ricco al mondo e così via avevo pensato tipo di aprire un account su instagram in cui parlo di questo giusto per avere tantissimi follower e incassare una percentuale io ragazzi ci credo poi se non riesco e fallisco vabbè però se volete intanto veramente oggi sono un po' da solo in casetta tutto voglio veramente editare un po' imparare mi dedicherò un pochino nelle varie cose quindi sarà un po' noioso ma purtroppo voglio portare questo progetto poi volevo anche aprire un altro account qui parlo curiosità sul cibo guardate mi rinfresco un po' quindi ovviamente oltre ad incassare una percentuale per fare vide per fare varie cose e proprio mi piace di cuore perché le curiosità veramente le amo tanto e tutto poi vorrevo anche parare a farle su tiktok quindi ma dopo non so come si fa se qualcuno sa me lo scriva su instagram ma solo per motivi di tiktok perché veramente ho tante richieste troppi messaggi varie robe quindi scrivetemi solo per tiktok allora ragazzi intanto io vorrei dirvi che gli asmr vedo che quello del sushi attese in passaggiato ne ha superato se non sbaglio le 330 visualizzazioni quindi questo qua ve lo chiedo sempre grazie a voi che avete visto e tutti e questo mi ha reso veramente felice soprattutto ha fatto tante visualizzazioni video del mac varie cose quindi l'smr li prenderò qui in amanti soprattutto anche perché c'è una pandemia e tutto quindi ragazzi veramente ci sono vari motivi perché faccio vedere oltre ai miei impegni tanto questa settimana qui mi arriveranno le nuove airpods pro perché io registro o con questi o con aspettate che ve li faccio vedere o con le cuffie da gamer quindi grazie veramente che queste va bene però mi arriveranno le nuove airpods pro o le prenderò colorate o bianche ma penso che le prenderò bianche quindi le ho pre tutte le tre specialità di cuffie allora ragazzi intanto io vorrei dirvi che per me nella vita i soldi non fanno la felicità purtroppo però penso che sia molto importante i soldi anche soprattutto per il futuro perché più si va avanti nella vita più diventa più difficile servono soldi serve qualcosa che veramente viene pagato bene tutto quindi io da grande mi è venuta sta passione di fare marketing manager lavoro più pagato soprattutto a me mi piace la geografia piace il commercio mi piace la matematica tutto quindi più o meno ci potrebbe stare allora tanto come vi ho detto dalla parte di youtube ma anche se avrò tanti iscritti mi arrivano i soldi non è che io vado a spenderli così a caso varie robe ci comprerò gli oggetti elettronici per cui fare video imparerò ad editare fare le challenge col cibo ad esempio sushi una settimana però devi imparare ad editare infatti per questo se uno a canale youtube sa bene le cose mi scriva su instagram quindi per la scomparsa vi chiedo veramente scusa però come vi ho detto ho anche altre varie cose da fare quindi chiedetemi voi le varie cose oggi sono qui nel mio studio per veramente fare delle cose impararvi ad editare il video creare quella peggia di curiosità che è andata a rispondere ai sondaggi ho cambiato nome su instagram tunisino trattino basso 2 ho quasi 130 follower ma ragazzi io inizio dal basso vado dall'alto quindi solo grazie a voi quindi ragazzi è così purtroppo quindi io ho fatto questo video per parlarvi soprattutto di perché ero scomparso per un pochino e tutto anzi veramente io ritornerò a fare video non so anche magari sui giochi anche su un po' di sport che l'altro si potrebbe anche uscire se sono in zona rossa per motivi di sport tutto non mi odiate se non ho altri giochi o farò anche cibo consigliatemi voi ad esempio varie robe se volete iniziatemi a consigliare un fast food per domani la maggioranza vincerà quindi la maggioranza vincerà e posterò sto cibo su instagram ovviamente proprio a tavola quindi ogni fast food che sia il menu decidete voi il prezzo lo decidete voi bevanda patatine in specialità potete anche consigliarmi due hamburger due patatine mcdonald's c'è gianfuli c'è wendy's c'è burger king burgers veramente tante robe quindi consigliatemi quello che volete ok non è normale non sono ricco quindi ragazzi tutto tutto era presto quindi la questione tornerò penso poi volevo anche aprire un canale youtube dove in pratica parlo delle cose ad esempio universo solo un po' di social un po' di robe creative per la testa quindi prossimo video prossimo video scrivete nei commenti comunque quando mi arriveranno le airpods le comprerò per sta settimana le ordinerò su amazon farò un video le proverò a fare un vario test questo grazie mille perché essere stato arrivato all'ultimo secondo aver ascoltato tornerò a fare video quindi sapete che sono occupato vi dico ciao dal mio studio Nader e da me stesso so Grazie a tutti.